Ciao a tutti, benvenuti in questo terzo episodio del format In Cucina con Chris Oggi vedremo come fare i pancake potenci Non dare spalle a te, come cazzo faccio Iniziamo, ci serve una padella antiaderente Farina d'avena aromatizzata, gusto reo, grazie al Tsunami Nutrition Che non sta sponsorizzando questo video, però se vuole apprezziamo Albume d'uovo pastorizzato, così non buttiamo i rossi Una bilancia per non fare le cose a c***o Infine, questa piccola chicca, olio spray per non far attaccare le cose Anche se con la padella antiaderente non succede, ma è più comodo Questi pancake profeteici vi portano ad avere una schiena così Iniziamo con il pesare l'albume, 300 grammi Dopodiché aggiungiamo la farina d'avena Quanta ne volete, nel mio caso ne metto 50 grammi Precisi precisi Dopodiché Sceglieremo il tutto E prepariamoci con la nostra padellina Il nostro spray Mettiamo un po' del composto occhio E aspettiamo Di conseguenza aspettiamo che sia pronto per poi iniziare a prepararlo Adesso arrivati a questo punto dove si gira da solo Ecco qua E voilà Primo pancake pronto Questo è l'ultimo Eccoli qua Poi ci potete mettere il burro da rachidi Anche questo burro da rachidi di tsunami Una volta pesato andiamo di spalmaggio E voilà Pancake pronto Il video finisce qua Mi raccomando iscrivetevi al canale Lasciate un like E se vi è piaciuto Lasciate anche un commento dicendomi Se l'avete provato Se vi è piaciuto O se vi è tornato utile Al prossimo video Ciao